Il Vigor Lamezia nasce nel 1919 e partecipa alla sua prima partita ufficiale nel 1920. Dopo tanti anni nelle categorie inferiori, nel 1946 disputa il primo campionato di Serie C, incontrando e battendo 1-0 il Foggia che poi vinse il campionato. In tutto la formazione calabrese vanta 18 presenze nei campionati di Serie C2 e seconda divisione. Dal 9 luglio 2010 il tecnico è Francesco Massimo Costantino, che ha ottenuto come miglior risultato alla guida dei Lamettini la partecipazione ai play-off del 2012 per la C1, uscendo in semifinale contro la Paganese. L'anno scorso il Lamezia ha lottato per non retrocedere fino all'ultima giornata e ha chiuso la stagione con un dato particolare, miglior difesa del campionato con soli 24 gol subiti, ma anche peggior attacco con sole 26 reti segnate. Nelle prime due giornate i biancoverdi sono andati come un treno, trovando due vittorie, prima a Sorrento per 3-2 e poi contro il Chieti per 1-0. La squadra calabrese ha inoltre dimostrato una buona duttilità tattica, passando dal 4-2-3-1 del match di Sorrento al 4-3-2-1 contro il Chieti. Capitan Mangiapane, che si appresta a timbrare la 153esima presenza con il Lamezia, è il giocatore di maggiore esperienza della formazione e può essere molto pericoloso con i suoi calci di punizione. Un altro giocatore da tenere sotto controllo sarà l'ala sinistra Zampaglione, che ha già siglato due gol in questo campionato. Il Foggia, reduce dal pareggio casalingo con l'Aprilia e la dura sconfitta in quel di Teramo, ora vuole a tutti i costi la prima vittoria di questo campionato. Riuscirà ad avere il giusto approccio e a ottenere finalmente i tre punti? Grazie.